I 1500 erano presenti ai nastri di partenza alle 17.30 in Piazza Duomo, l'iniziativa è Libere di Correre. In tante runners si sono presentate con la maglietta offerta da Patrizia Pepe e i luoghi della manifestazione per manifestare la volontà di poter sentisi libere di correre lungo il Bisenzio. Il percorso è partito da Piazza Duomo per poi attraversare via Magnolfi, via Cavallotti, in direzione sulla ciclabile verso Santa Lucia. Da Ponte Datini poi si attraversa il Bisenzio e si torna indietro. Bella manifestazione della piazza. Bravissimi, no no, molto bravi. È un bel segnale perché è stata organizzata, devo dire, hanno avuto un approccio che è veramente efficace da questo punto di vista, almeno per come vivo io l'amministrazione, perché loro hanno fatto, sono stati, si sono posti in maniera molto costruttiva, fermi, rigorosi, cioè non è che hanno fatto sconti particolari, però in maniera molto corretta, molto aperta, cioè erano segnalazioni molto costruttive da questo punto di vista. Io penso sia in modo migliore di interagire fra amministrazione e cittadinanza. Esiste di partecipare? Per farci sentire perché ci sembra giusto che questa cosa abbia risonanza perché bisogna essere più tranquilli, ecco, per noi e per i nostri bambini. Per noi e per i bambini. Ha portato anche figli? Sì, due. Uomini, donne e bambini, l'importante è esserci, chi ha piedi, chi ha corsa. L'importante è essere qui per evadire per l'ennesima volta l'importanza di poter correre liberamente anche a Prato.